Benvenuti amici di MobileOS, quest'oggi stiamo testando il Nokia Lumia 735 in condizioni un po' proibitive perché siamo alle 5 di pomeriggio quasi e già sta cominciando a scendere la notte, un po' di buio ma volutamente ho voluto fare questo con il Lumia perché come dire i Lumia in genere sono molto buoni dal punto di vista delle foto e dei video e quindi voglio testarlo in condizioni un pochino estreme poi voglio vedere un po' come esce il video se verrà bene al PC non farò un altro video altrimenti ne proporrò un altro di giorno proviamo anche magari qualche cambiamento luminoso proviamo anche magari un piccolo zoom un pochino sgrana ma è normale, siamo anche un po' all'imbrunire cambiamenti luminosi però buoni, il telefono è stabile guardate come non cambia troppo luminosità e poi andiamo magari a chiuso qualcosa di ravvicinato nonostante sia buio ma devo dire che se la cava diciamo discretamente bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti